Fumata bianca in casa Folgole-Veregra. Dopo una serie di passaggi a vuoto, rispettivamente con Ermanno Carassai, Maurizio Di Clemente e Angelo Cetera, ad appena 48 ore dall'inizio del campione d'eccellenza, arriva la fumata bianca in casa Folgole, che finalmente ha una nuova guida tecnica. Si tratta di Saturnino, per tutti Nino Quinzi, tecnico Elpidiense, con tante esperienze in promozione, Sagiorgese, Porto Potenza e Chiesa Nuova, che si rimette dunque in gioco con un periodo passato, lontano dalla panchina. Sì, l'accordo è fatto, dice, certo, difficoltà ci sono, visto che siamo in ritardo, ma posso confermare che sabato saremo regolarmente al via del campionato a Grottamare, senza problemi. Una delle questioni principali riguarda l'allestimento della Rosa, che al momento conta solo poche unità. Posso dire che ci stiamo muovendo in questa direzione e siamo a buon punto, nonostante il ritardo. C'è molto da fare, ma siamo pronti. Il tecnico in mattinata ha incontrato la dirigenza e ha diretto il suo primo allenamento. Sul caso Folgole, nelle ultime ore, è intervenuto anche il presidente del comitato regionale della FIGC, Paolo Cellini. La società è regolarmente iscritta al campionato d'eccellenza. Aveva invece comunicato l'indisponibilità del campo di falerone per la Coppa Italia e successivamente la rinuncia alla stessa gara. Per quanto riguarda il campionato, ancora, dice Cellini, non ci hanno manifestato l'intenzione di ritearsi. Ma il rischio della rinuncia in qualche maniera c'è, anche perché il comitato, prima di diramare i calendari della promozione in giù, aspetta che si disputi la prima giornata d'eccellenza. Una situazione in evoluzione dunque. Nel frattempo, domenica alle ore 21, torna in diretta l'appuntamento con Marche d'eccellenza. Il contenitore sul massimo torneo dilettantistico regionale, con immagini, gol e interviste da tutti i campi.